Ancora un pessimo record per la Roma Lido. Secondo il rapporto pendolaria di Legambiente presentato ieri, i numeri continuano ad essere drammaticamente negativi. Si assiste in ermi all'abbandono di questa ferrovia da parte dell'utenza, si legge in una nota. Sulla linea ci sono 25.000 viaggiatori in meno al giorno. Potrebbe essere una vera metro, invece si fanno viaggi infernali, commenta il presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi, che prosegue. Questa tratta sancisce il disastro della capitale. L'abbiamo tante volte descritta come la peggiore d'Italia e oggi le persone non la vogliono più prendere preferendo l'auto privata. Nella nostra regione ci sono le più frequentate linee di tutto il paese e bisogna continuare ad investire portando al regime il nuovo contratto di servizio e permettendo il miglioramento della qualità della vita di tante persone. 8 delle prime 15 ferrovie con più viaggiatori in Italia sono nel Lazio. Prima in assoluto è la Fiumicino Farasabina con 75.000 pendolari al giorno. Vanno impiegate risorse e progetti per potenziare tutta la rete su ferro, principalmente con il raddoppio dei percorsi a binario unico. A Roma i fondi ministeriali miglioreranno le metro esistenti, ma il Comune non sta progettando niente oltre a quello che già esiste, ha concluso il presidente di Lega Ambiente Lazio.